Finalmente una buona notizia per la zona montana del cratere Terramano. L'annuncio è ufficiale. A Montoro e Alvomano si farà la nuova uscita autostradale della 24. Il progetto si inserisce nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo del cratere Centro Italia per sostenere investimenti integrativi rispetto alla ricostruzione materiale degli edifici, ma soprattutto per assicurare la ripresa e lo sviluppo dell'economia delle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017. L'intervento da realizzare riguarderà il raccordo tra il tracciato autostradale A24, Roma-Teramo, e la viabilità provinciale 491 e poi statale 150. La nuova bretella consentirà ai mezzi pesanti e non solo, provenienti da tutta Italia, di evitare il tortuoso percorso esistente e di collegare in maniera più snella l'A24 alla zona industriale di Montorio-Alvomano. Esulta il primo cittadino di Montorio, Fabio Altitonante, che porta a casa una delle infrastrutture maggiormente strategiche della provincia di Teramo. Le più grandi sofferenze per il cratere sono lo spopolamento e l'impoverimento, sottolinea il sindaco. Si combattono con lavoro, turismo e qualità della vita. Nella zona industriale e nella zona artigianale del comune di Montorio-Alvomano ci sono aziende rilevanti. Attualmente il fatturato delle imprese presenti si attesta complessivamente intorno ai 200 milioni di euro all'anno. L'uscita autostradale a Montorio-Alvomano assume così un ruolo fondamentale per il sistema produttivo teramano, ma anche per quello turistico. Permetterà infatti un immediato accesso al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di cui Montorio-Alvomano costituisce la cosiddetta porta del parco. I lavori dovrebbero essere celeri ed è possibile stimare che nei prossimi 24 mesi Montorio avrà la sua uscita autostradale.